Nico. Nico si tirò su così in fretta che mollò una testata sul naso del coach. Aia! Cavoli ragazzino che zucca dura! Scusi coach. Nico strizzò gli occhi e cercò di orientarsi. Che succede? Non vide nessuna minaccia immediata. Erano accampati in un prato soleggiato al centro di una piazza pubblica. Ai vuole di margherite arancione fiorivano tutti intorno. Reina dormiva raggomitolata su se stessa, i due cani di metallo ai suoi piedi. A un tiro di schioppo alcuni bambini giocavano a rincorrersi attorno a una fontana di marmo bianco. In un bar poco distante pochi clienti sorseggiavano il caffè sotto gli ombrelloni. A parte qualche camioncino delle consegne parcheggiato ai margini della piazza non c'era traffico. Gli unici pedoni. Erano poche famigliole che probabilmente si godevano quel caldo pomeriggio. La piazza lastricata era costeggiata di edifici intonacati e alberi di limoni. Al centro sorgeva la struttura ben conservata di un tempio romano con una base lunga una quindicina di metri e alta dieci. Le colonne corinzie della facciata intatta si alzavano per altri otto metri circa. In cima al colonnato... Nico si sentì seccare la lingua. Ostige! L'Atena Partenus era distesa con il fianco poggiato sulle colonne, come una gigantesca cantante di nightclub adagiata su un pianoforte. Copriva la lunghezza del tempio quasi perfettamente. Solo la statua di Nico nella mano tesa fuoriusciva un po' troppo dal bordo. Sembrava sul punto di cadere da un momento all'altro. Che accidente ci fa lassù? chiese Nico. Dimmelo tu! Edge si strofinò il naso ammaccato. È lì che siamo comparsi. C'è mancato poco che ci rompessimo l'osso del collo, ma per fortuna i miei zoccoli sono agili. Tu eri svenuto e penzolavi dall'imbraccatura come un paracadutista impigliato, però siamo riusciti a farti scendere. Nico cercò di immaginarsi la scena, poi decise che era meglio non farlo. Siamo in Spagna? In Portogallo, rispose Edge. Lancio lungo? E a proposito, Reina parla lo spagnolo, non il portoghese. Comunque, mentre dormivi, siamo riusciti a capire che siamo a Evora. La buona notizia? È un posticcino tranquillo. Nessuno ci ha disturbato. Nessuno sembra essersi accorto che c'è un'Atena gigante addormentata in cima al Tempio Romano, che per tua informazione è il Tempio di Diana. E infine, la gente di qui sembra apprezzare le mie esibizioni. Ho guadagnato quasi 16 euro. Sollevò il berretto da baseball che tintinò di monete. Nico non si sentiva troppo bene. Esibizioni? No, solo qualche canzoncina, rispose il coach. Un po' di arti marziali. Qualche passo di danza interpretativa. Caspita, lo so, i portoghesi hanno gusto. Comunque, ho pensato che fosse un bel posto per riposarsi un paio di giorni. Nico lo fissò in credulo. Un paio di giorni? Ehi, ragazzino, non avevamo molta scelta. Nel caso tu non l'abbia notato, per poco non ci restavi secco, a furia di saltare nell'ombra. Abbiamo cercato di svegliarti ieri sera. Non c'è stato verso. Perciò ho dormito per... 36 ore, più o meno. Ne avevi bisogno. Nico fu felice di essere seduto. Altrimenti sarebbe svenuto di nuovo. Avrebbe giurato di avere dormito soltanto pochi minuti, ma mentre a poco a poco lo stordimento passava, si accorse di sentirsi più lucido e riposato di quanto non gli capitasse da settimane, forse addirittura da prima che partisse alla ricerca delle porte della morte. Gli brontolò lo stomaco. Il coach innarcò le sopracciglia. Avrai fame, disse. A meno che il tuo stomaco non parli la lingua dei porcospini. In tal caso, ha fatto una dichiarazione importante. In effetti mangerei volentieri, ammise Nico. Ma prima, qual è la cattiva notizia? Ha detto che avevamo dei problemi, a parte la statua in cima al tempio, intendo. Oh, giusto. Il coach indicò un arco in un angolo della piazza, all'ombra del quale si intravedeva una figura vagamente umana circondata da fiamme grigie. Lo spirito aveva un volto indistinto, ma sembrava fare cenno a Nico. L'uomo torcia si è fatto vivo, si fa per dire. Qualche minuto fa, spiegò il coach. Non si avvicina. Quando ho cercato di andare io da lui, è scomparso. Non sono sicuro che sia una minaccia, ma sembra chiedere di te. Nico pensava fosse una trappola, come la maggior parte delle cose. Ma Edge promise di fare la guardia reina ancora per un po', e nella remota speranza che lo spirito avesse qualcosa di utile da dirgli, Nico decise che valeva la pena rischiare. Sguainò la sua spada di ferro dell'ostige, e si avviò verso l'arco. Di solito non aveva paura degli spiriti, sempre che Gea non li avesse chiusi in gusci di pietra e trasformati in macchine assassine. Quella era stata una novità per lui. Dopo la sua esperienza con minosse, aveva compreso che gli spettri avevano solo la quantità di potere che gli si concedeva. Ti rovistavano nella mente, usando la paura, la rabbia o il desiderio per influenzarti. E lui aveva imparato a proteggersi. A volte riusciva perfino a invertire le parti e a piegare i fantasmi al suo volere. Mentre si avvicinava a quell'apparizione grigia infuocata, cominciò a capire che si trattava di uno spirito ordinario, un'anima smarrita che aveva avuto una morte dolorosa. Non avrebbe dovuto essere un problema. Tuttavia, non dava niente per scontato. Ricordava fin troppo bene la Croazia. Si era messo in quella situazione sicuro e spavaldo, e si era visto sparire la terra sotto i piedi, in tutti i sensi. Prima Jason Grace lo aveva afferrato e scaraventato oltre un muro. Poi il dio Favonio lo aveva dissolto in un soffio di vento. E quanto a quell'arrogante di Cupido. Nico serrò l'elsa della spada. Rivelare la sua cotta segreta non era stata la cosa peggiore. Prima o poi forse lo avrebbe fatto comunque, a modo suo, con i suoi tempi. Ma essere costretto a parlare di Persi. Sottostare a prepotenze e vessazioni solo per il divertimento di Cupido. Volute di tenebre si levavano ora a ogni suo passo, uccidendo tutte le erbacce che crescevano fra le pietre. Nico cercò di frenare la rabbia. Quando raggiunse il fantasma, vide che era vestito da frate. Sandali, tunica di lana e croce di legno al collo. Fiamme grigi avvolgevano la sua figura, bruciando le maniche dell'abito, facendogli scoppiare bolle sul viso, incenerendo le sopracciglia. Sembrava bloccato nell'attimo della sua immolazione, come un video in bianco e nero proiettato in continuazione. «Sei morto sul rogo, intuinico. Nel Medioevo, giusto?» Il volto del fantasma si distorsi in un grido d'agonia muto, ma lo sguardo sembrava annoiato, perfino un po' seccato, come se quell'urlo fosse un riflesso automatico che non riusciva a controllare. «Che cosa vuoi da me?» chiese Nico. Il fantasma gli fece cenno di seguirlo, poi girò le spalle e varcò l'arco di pietra. Nico si voltò a guardare il coach. Il satiro rispose con un gesto della mano, come a dire «Vai, sbriga questa tua faccenda degli inferi!» e Nico si incamminò dietro il fantasma per le vie di Evora. Percorsero gli stretti e tortuosi vicoli cittadini, attraversando cortili dai grandi vasi di bisco, superando bianchi palazzi dalle bordure color caramello e dai balconi in ferro battuto. Nessuno notò il fantasma, ma tutti guardarono Nico un po' di spieco. Una ragazza con un fox terrier attraversò la strada per evitarlo. Il cane ringhiò, il pelo dritto sulla schiena come una pinna dorsale. Lo spettro condusse Nico in un'altra piazza, che si chiudeva su un lato, con una grande chiesa dalle pareti bianche e dagli archi di pietra calcarea. Percorse il portico e sparì dentro l'edificio. Nico esitò. Non aveva nulla contro le chiese, ma quella di fronte a lui irradiava morte. Dentro dovevano esserci delle tombe, o forse qualcosa di ancor meno piacevole. Si infilò nel portone. Il suo sguardo fu attratto da una cappella laterale, che riluceva di un inquietante bagliore dorato. Scolpita sopra l'ingresso c'era un'iscrizione in portoghese. Nico non conosceva la lingua, ma ricordava a sufficienza l'italiano della sua infanzia per afferrarne il significato generale. Noi ossa che qui stiamo, le vostre aspettiamo. Che allegria, mormorò. Entrò nella cappella. Sulla parete opposta si ergeva un altare, di fronte al quale lo spettro infuocato del frate era inginocchiato in preghiera. La cosa più interessante però era la stanza in sé. I muri erano fatti di ossa e teschi, migliaia e migliaia cementati insieme. Colonne di ossa sostenevano il soffitto a volta, decorato con immagini di morte. Su una parete, appese come cappotti, pendevano le spoglie essiccate scheletriche di due persone, un adulto e un bambino. Bella stanza, vero? Nico si voltò. Un anno prima avrebbe fatto un salto di due metri se suo padre gli fosse comparso accanto così all'improvviso. Adesso era perfettamente in grado di tenere a bada il proprio cuore e di reprimere l'impulso di mollargli una ginocchiata all'inguine e scappare. Come lo spettro, Ade indossava l'abito francescano, cosa che Nico trovò un po' inquietante. La tunica scura era legata in vita da una corda. Il cappuccio tirato indietro scopriva i capelli neri rasati molto corti e gli occhi che scintillavano come catrame gelato. L'espressione del dio era calma e soddisfatta, come se fosse appena rientrato da una piacevole passeggiatina nei campi della pena per godersi le grida dei dannati. Stai cercando nuove idee per arredare casa? Domandò Nico. Forse potresti rifare il tinello con teschi di frati medievali. Ade inarcò un sopracciglio. Non capisco mai se scherzi oppure no. Perché sei qui, padre? Come ci sei arrivato? Ade accarezzò con le dita la colonna più vicina, lasciando una scia di segni candidi sulle vecchie ossa. Sei un mortale difficile da rintracciare, figlio mio. Sono giorni che ti cerco. Ma quando lo scettro di Diocleziano è esploso, beh, ti sei fatto notare. Nico arrossì di vergogna. Poi si arrabbiò. Ma quale vergogna? Non è stata colpa mia. Stavamo per essere sopraffatti da... No, lo scettro non è importante. Un cimeglio così antico. Mi sorprende che tu sia riuscito a usarlo ben due volte. L'esplosione è servita solo a darmi un po' di chiarezza. Mi ha consentito di localizzarti. Speravo di parlare con te a Pompei, ma è un luogo così... beh, romano. Questa cappella è il primo posto in cui la mia presenza è abbastanza forte da consentirmi di apparire di persona nelle mie vesti, cioè in quelle di Ade, signore dei morti. Senza quell'altra mia manifestazione. Ade inspirò l'aria viziata e umida. Sono molto attratto da questo luogo. Per costruire la cappella delle ossa sono state usate le spoglie di cinquemila frati. Lo scopo è ricordare che la vita è breve e che la morte è eterna. Qui mi sento concentrato. Ciò nonostante, ho solo qualche minuto. La storia del nostro rapporto, pensò Nico, hai solo qualche minuto. Allora dimmi, padre, che cosa vuoi? Ade congiunse le mani dentro le maniche della veste. Potresti considerare l'idea che io sia qui per aiutarti e non perché voglio qualcosa? Nico sarebbe scoppiato a ridere, ma si sentiva il petto troppo vuoto. Posso considerare l'idea che tu sia qui per più di una ragione? Il dio si accigliò. È giusto così, suppongo. Stai cercando informazioni sul cacciatore di Gea. Il suo nome è Orione. Nico esitò. Non era abituato a ricevere risposte dirette, senza enigmi o indovinelli. Orione? Come la costellazione? Ma non era un amico di Artemide? Lo era, sì, confermò Ade. Era un gigante, nato per opporsi ad Apollo e Artemide. Ma proprio come la dea, Orione rifiutò il suo destino. Cercò di andare per la sua strada. Prima provò a vivere fra i mortali come cacciatore del re di Chio. Ma poi finì nei guai con la figlia del re. E questi lo fece accecare e lo esiliò. Nico ripensò a quello che Reina gli aveva raccontato. La mia amica ha sognato un cacciatore con gli occhi luminosi come fari. Se Orione è cieco, era cieco, lo corresse Ade. Poco dopo il suo esilio, Orione incontrò Efesto, che ebbe pietà di lui, e gli fabbricò degli occhi meccanici perfino migliori degli originali. Orione strinse amicizia con Artemide. Fu il primo uomo a cui fosse concesso di unirsi alla caccia. Ma qualcosa fra quei due andò storto. Non so cosa di preciso. Orione rimase ferito. Ora è di nuovo un leale figlio di Gea, pronto a eseguire i suoi ordini. È spinto dall'amarezza e dalla rabbia. Una cosa che tu puoi capire. Nico avrebbe voluto urlare, come se tu sapessi come mi sento! Invece chiese, come lo fermiamo? Non potete, rispose Ade. La vostra unica speranza è sfuggirgli, compiere la vostra impresa prima che vi raggiunga. Apollo e Artemide forse potrebbero distruggerlo frecce contro frecce, ma i gemelli non sono nelle condizioni di aiutarvi. In questo momento, Orione è già sulle vostre tracce. Il suo branco da caccia vi ha quasi raggiunto. Non potrete godere di altro riposo d'ora in poi, finché non arriverete al campo mezzo sangue. Nico si sentì stringere il petto in una morsa. Aveva lasciato il coceggio di guardia mentre Reina dormiva. Devo tornare dai miei compagni. Certamente, disse Ade, ma c'è dell'altro. Tua sorella... Il dio cominciò a balbettare. Come sempre, l'argomento bianca leggiava fra loro come una pistola carica, un'arma letale a portata di mano, impossibile da ignorare. Voglio dire, la tua altra sorella, Hazel. Ha scoperto che uno dei sette morirà. E forse cercherà di impedirlo. Così facendo, potrebbe perdere di vista le sue priorità. Nico non si azzardò a fiatare. Con sorpresa, i suoi pensieri non saltarono subito a Percy. La sua preoccupazione principale fu per Hazel, poi per Jason, poi per Percy e il resto dell'equipaggio del Largo 2. Quei ragazzi lo avevano salvato a Roma. Lo avevano accolto sulla loro nave. Nico non si era mai permesso il lusso di avere degli amici, ma quei semidei erano la cosa che più si avvicinava. L'idea che uno qualunque di loro potesse morire lo faceva sentire vuoto. Era come trovarsi di nuovo dentro quella giara di bronzo, solo, al buio, a nutrirsi di semi di melagrana. Alla fine chiese, Hazel sta bene? Per il momento. E gli altri? Chi morirà? Ha descosse la testa. Se anche ne fossi certo, non potrei dirlo. Ti sto riferendo questo perché tu sei mio figlio. Sai che ci sono morti che non si possono evitare, che non si devono evitare. E quando arriverà il momento, forse, dovrai agire. Nico non sapeva cosa intendesse dire. Non voleva saperlo. Figlio mio, il tono di Ada era quasi gentile. Qualunque cosa accada, ti sei guadagnato il mio rispetto. Hai reso onore alla nostra casa, quando abbiamo combattuto insieme contro Crono a Manhattan. Hai rischiato la mia ira per salvare quel Jackson, guidandolo fino allo stige, liberandolo dalla mia prigione, supplicandomi di evocare l'esercito di Erebo per assisterlo. Nessuno dei miei figli mi aveva mai assillato tanto prima. Persi, persi. Sempre questo persi. C'è mancato poco che ti polgorassi. Nico trasse un breve respiro. Le pareti della cappella cominciarono a tremare, la polvere che pioveva dalle crepe fra le ossa. Non l'ho fatto solo per lui. L'ho fatto perché il mondo era in pericolo. Ade si concesse un vievissimo sorriso, ma non c'era traccia di crudeltà nel suo sguardo. Posso contemplare la possibilità che tu abbia agito per più di una ragione. Ma il punto è, tu e io ci siamo levati in soccorso dell'Olimpo, perché tu mi hai convinto a liberarmi della mia rabbia. E vorrei incoraggiarti a fare lo stesso. I miei figli sono felici così di rado. E io... Io vorrei che tu fossi un'eccezione. Nico fissò il padre sbigottito. Non sapeva come prendere quella dichiarazione. Poteva accettare molte cose irreali. Orde di fantasmi, labirinti magici, il viaggio nell'ombra, le cappelle fatte di ossa. Ma parole tenere dal signore degli inferi. No, non aveva nessun senso. In fondo alla cappella, lo spettro inginocchiato si alzò. Si avvicinò ardendo e urlando in silenzio, gli occhi accesi da un messaggio urgente. Ah, esclamò Ade, ti presento Fra Pallohan. È uno dei molti che furono messi al rogo nella piazza vicino al vecchio tempio romano. L'inquisizione aveva il suo quartier generale da queste parti, sai? A ogni modo, suggerisce che tu te ne vada subito. Avete pochissimo tempo prima dell'arrivo dei lupi. Lupi? Vuoi dire il branco di Orione? Ade mosse la mano di scatto. Il fantasma di Fra Pallohan scomparve. Figlio mio, quello che stai cercando di fare, attraversare il mondo viaggiando nell'ombra e trasportando la statua di Atena, potrebbe distruggerti. Grazie per l'incoraggiamento. Ade gli posò per un breve attimo le mani sulle spalle. A Nico non piaceva farsi toccare da nessuno, ma in qualche modo quel contatto fugace con suo padre fu rassicurante, come lo era la cappella delle ossa. Similmente alla morte, la presenza di Ade era fredda e spesso crudele, ma era autentica, brutalmente onesta, inspiegabilmente affidabile. Nico scopriva una specie di libertà nel sapere che alla fine, qualunque cosa fosse successa, si sarebbe ritrovato ai piedi del trono di suo padre. Ci rivedremo, promise il dio della morte. Ti preparerò un alloggio palazzo, nel caso tu non sopravviva. Forse ci starebbero bene degli arredi fatti di teschi difrati. Ora sono io a non capire se stai scherzando. Gli occhi di Ade scintillarono e la sua forma cominciò a svanire. Allora forse ci somigliamo, sotto certi importanti aspetti. Il dio scomparve. A un tratto la cappella diventò supprimente. Migliaia di orbite vuote che lo fissavano. Noi ossa che qui stiamo. Le vostre aspettiamo. Nico corse fuori dalla chiesa, sperando di ricordarsi la strada, per tornare dai suoi amici.